C'è un missionario che porta il verbo della religione in mezzo ad una tribù di indigeni. Comincia a stare là e questi sono gentili, lo accolgono e si integra perfettamente nel nucleo di questo villaggio. Fino a che a un certo punto, a moglie del capo villaggio, tutti i figli neri, a un certo punto gliene viene uno bianco. Il capo tribù va su tutte le purie, chiama il missionario da una parte e fa così. Missionario, tu spiegare a me questa cosa strana, io tutti i figli neri, perché questo bianco? Allora il missionario mi fa, ma figliolo, devi stare tranquillo, se gira verso il grece da pecore, vedi quelle pecore? Guarda, sono tutte bianche e una sola è nera. Il capo tribù si guarda e fa così, vabbè, io non dire niente del bambino, ma tu zitto da pecore!